Popolo, noi siamo sempre qui, sempre all'assessore, il messaggio arriva parecchio qua che oggi le cose non stanno tanto bene, però tranquillo è una giornata di quasi tutti i giorni, però tranquillo, soft, come dice il nano, techerisce, Nino dice techerisce, techerisce ragazzi abbiamo Nino, è sempre fortunato come attuatore ormai, è il number one ta ta ta, eccolo, guardate qui, eccolo qui, il nostro fortunato, sembra sempre il messaggio che mi ha dato di prima guardate a Nino, guardate questo, ha dato il capolavoro, c'ha detto Nino, è un po' picciolino russo, è bravo, qua c'è un capolavoro come fare una capolavoro, questi sono capolavori, questi sono capolavori mamma mia Nino, come si vede bella la capolavoro, è capolavoro, parlarsi che c'è la luce si vede più bella, i tatuaggi colorati, questo è tutto abbronzato, guardate qua, tutto colorato, che qua, ogni tanto i pesciolini, come lo vedi questo pesciolino, solo che si sta scassando perché lì questo abbraccio se ne è fatto quasi viola, quasi, ah, abbiamo una novità, il nostro delfino che noi a me ci siamo dimenticati, è il mio figlio, lo vogliamo dire, diciamolo, il mio figlio, saluto il fuoco, sei affortunato, saluto il mio figlio, basta, nino, ecco, tu facci la tavizia, ah, 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 ah Grazie.